ben ritrovati di nuovo su review oggi vado a recensire al volo queste testine per spazzolino philips sony care vi lascio il link in descrizione di amazon dove l'acquistate così non vi sbagliate non vi confondete con gli altri modelli ce ne sono tanti di testine però non tutte si adattano al vostro spazzolino se avete un philips sony care hx 6837 sdash 24 come ce l'ho io e tra l'altro fatto anche la recensione di quello spazzolino sonico ecco queste qua vanno perfettamente si adattano come vedete sono di colore bianco hanno anche la diciamo il copri setola e devo dire che hanno la tecnologia che mi permette come vedete qua da questo simbolo di cambiarle che vi avvisa quando dovete cambiarle ci sono anche disponibili nel colore nero costano un po di meno ma sono pagati sui 16 euro dipende anche ovviamente le promozioni più le comprate e più risparmiate ovviamente io non avevo voglia di spendere troppo ne ho prese due per adesso mi dovrebbero bastare non c'è altro da dire se non di comprare magari i prodotti originali piuttosto che quelle testine che magari costano 7 euro e ce ne avete 6 ma poi la qualità non è il massimo anche perché si tratta di salute si tratta della vostra bocca quindi magari su questi aspetti evitate di risparmiare tra l'altro avevo anche recensite quelle che costavano di meno non viene trovato mai però devo dire che anche qua in termini di qualità siamo un livello più alto e anche il fatto che si possono sfruttare con questa tecnologia che vi avvisa quando le le testine sono da cambiare se avete domande non esitate a pormene link in descrizione del prodotto alla prossima review